L'incidente al stradale nel pomeriggio di domenica 23 luglio, poco prima delle 15, sulla strada provinciale 565 Pedemontana, all'altezza di Parella, coinvolte tre vetture, una Suzuki Vitara, una Dacia Sandero e una Volvo C50. L'impatto è stato alquanto violento e le tre auto si sono accartucciate una sopra l'altra. Una quarta auto, un Audi A3, ha riportato danni allo specchietto perché è riuscita a evitare le altre vetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, i vigili del fuoco di Livorno Canavese, i carabinieri di Cornia e Castellamonte, le ambulanze della Croce Rossa di Castellamonte, di Strambino e la Croce Blu di Ivrea, nonché le di soccorso 218. Il bilancio di sei feriti, di cui uno più grave è ritrasportato all'ospedale CTO di Torino. Gli altri cinque sono state invece portate di Ivrea per controlli. La dinamica di un incidente è al valio dei carabinieri, disagio al traffico per il tratto bloccato. Grazie.